Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 ci sono rallentamenti in direzione Bologna, tra Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico, per traffico intenso. Sulla A12 fare attenzione per vento forte tra Pisa centro e l'allacciamento tra l'Aurelia e la A12. Sulla Fibili per intervento di riprissino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare nel tratto al chilometro 79 direzione Livorno. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale A12 della Betone e del Brennero chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo a Mozzano a causa di una frana. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!